Il Dienza prosegue i suoi lavori, si accomodi ne pure. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, alla parola l'Avvocato Paolo Grasso. Grazie, Presidente. Anzitutto, sottolineo che nella ripartizione della discussione per il Presidente del Consiglio dei Ministri, io tratterò le questioni che attengono i profili di inammissibilità e irrilevanza delle questioni che sono state sollevate. L'Avvocato Mastella tratterà dei profili di merito e delle singole norme. Nel trattare di questi profili cercherò di concentrarmi su quelle questioni di carattere più generale, diciamo le questioni di inammissibilità che riguardano tutte o quasi tutte le ordinanze di rimessione, con particolare riguardo a quanto è emerso dalla discussione odierna per cercare di fissare, dal nostro punto di vista, alcuni principi sulla materia. Invece, per quanto riguarda singoli profili di inammissibilità che attengono alle singole ordinanze di rimessione, mi riporto a quanto diffusamente abbiamo scritto nelle varie memorie depositate. Allora partirei anzitutto con un'osservazione che riguarda tutte o quasi tutte le ordinanze di rimessione. Il fatto che i giudici a Quibus e a Di Massima si siano limitati nel sollevare, nell'argomentare le questioni sollevate, si siano limitati a rinviare per relazione a quanto era stato scritto all'interno dell'ordinanza della Corte di Cassazione del 2013, con la quale erano state sollevate le questioni di costituzionalità che afferivano alla precedente legge elettorale, quella del 2005, che poi è sfociata nella sentenza numero 1 del 2014. E questo richiamo, questo rinvio per relazione a quelle argomentazioni è stato il più delle volte svolto, senza valorizzare adeguatamente quelle differenze notevoli e rilevanti giuridicamente che ci sono e che sicuramente appunto sussistono tra la norma elettorale che era stata scrutinata in quell'occasione e la norma elettorale che è oggi oggetto della vostra attenzione. Ora, anzitutto vorrei dire su questo che già dal punto di vista della tecnica redazionale dell'ordinanza di rimessione, il rinvio per relazione a diversi provvedimenti, provvedimenti precedenti, di per sé costituisce un indice di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, così come in un'ordinanza recentissima di quest'anno, dico, desta Corte, e la numero 165 è stato affermato. Si dice in quella ordinanza che laddove i giudici si limitano a richiamare attraverso un rinvio per relazione petitum e causa petendi contenuti in diversi provvedimenti giurisdizionali, essi non argomentano adeguatamente, in modo sufficiente, in modo non implausibile, in ordine alla rilevanza della questione. E ora questo è proprio il punto che in qualche modo infiscia gran parte delle ordinanze di rimessione, che non c'è un'adeguata valorizzazione delle differenze tra le censure che afferivano a quella legge elettorale e quelle invece che sono state sollivate con riferimento all'italicum. E in particolare, tra le differenze importanti tra le due norme che sono state ampiamente trattate oggi, ma sulle quali io ritengo, seppur brevemente, di dovermi soffermare, la prima è proprio il fatto che con la legge 52 del 2015 ancora non si è mai andata alle urne, laddove invece nella legge elettorale precedente per ben tre volte si era andati a votare. Ora, questa è una differenza di non poco momento dal punto di vista dell'interesse ad agire dei ricorrenti nei giudizi a Quibus, perché se non è stata ancora effettuata alcuna elezione in applicazione della legge di cui oggi discutiamo, nessuna lesione del diritto di voto si è mai potuta perpetrare. E questa è una impostazione che viene riconosciuta espressamente da parte delle difese dei ricorrenti che hanno parlato, infatti, di azioni proposte in via preventiva, in prevenzione, proprio per evitare che l'applicazione della norma, in concreto, possa determinare una lesione. E si dice che l'interesse, la situazione giuridica soggettiva che viene fatta valere davanti al giudice Quibus è l'interesse a ottenere l'accertamento della pienezza del diritto al voto. Questa impostazione, o meglio, l'eccezione di inammissibilità che è stata formulata da questa difesa erariale in relazione a questo profilo, è stata oggi contestata in maniera vehemente, in maniera molto decisa. Si è detto pure che è una tesi paradossale quella attraverso la quale non si vuole un sindacato della Corte che abbia ad oggetto una norma, anche se questa non ha ancora prodotto i suoi effetti. Eppure su questo io mi sentirei di richiamare un precedente, recente, del 2015, la sentenza 110, appunto, di Codesta Corte, nella quale è stato espressamente affermato che il mero riferimento all'interesse e all'accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future consultazioni elettorali non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire. Dunque, la situazione giuridica soggettiva che si vuole far valere nei giudizi da cui promanano le ordinanze di rimessione, se sono situazioni giuridiche soggettive, volte all'accertamento della pienezza del diritto al voto, sono situazioni giuridiche soggettive che non sottendono automaticamente anche un interesse ad agire tale da poter richiedere un sindacato di costituzionalità. In ogni caso, questo è un profilo che non è stato adeguatamente argomentato e spiegato all'interno delle ordinanze di rimessione e ritorno quindi all'eccezione di inammissibilità perché sono state confezionate senza adeguatamente argomentare sul punto. La seconda differenza, anche rilevante, è che la legge elettorale del 2005 che è stata scrutinata con la sentenza 1 del 2014 era immediatamente applicabile al momento in cui sono stati incardinati i giudizi dai quali è originata la questione di costituzionalità. Laddove invece, come sappiamo pacificamente, l'Italicum, che entra in vigore nel maggio del 2015, rinvia i suoi effetti alle elezioni da tenersi dopo il primo luglio del 2016. E allora, da questo punto di vista, dobbiamo dire che un'eventuale valutazione di ammissibilità della questione da parte della Corte comporterebbe che la Corte si pronuncerà su una norma che non è ancora mai stata applicata, su una norma che non produce i suoi effetti e quindi si atteggerebbe come una sorta di sindacato preventivo di legittimità della norma prima ancora che la norma abbia prodotto effetti e quindi non sarebbe rispettato quel sistema attraverso cui si giunge alla Corte Costituzionale solo attraverso un giudizio in cui in via incidentale venga sollevata la questione di costituzionalità. In altri termini, l'incidentalità del giudizio presuppone che la norma produca i suoi effetti, abbia prodotto i suoi effetti nel giudizio a quo. E non è proprio il caso nostro, perché la norma avrebbe prodotto effetti e produrrà effetti solo a partire da luglio 2016, quindi in data successiva rispetto al momento in cui è stato incardinato il giudizio a quo e quindi questo si traduce in una sorta di irrilevanza della questione. Tant'è vero che, a parte le cinque ordinanze di rimessione che hanno portato alla vostra attenzione la questione oggi, ci sono stati altri tribunali che hanno ritenuto manifestamente infondate le questioni e le hanno rigettate, con ciò sottolineando che effettivamente non si tratta di una valutazione univoca dei giudici di merito che quella norma, che la norma di cui oggi discutiamo, sia effettivamente tale da poter essere scrutinata dalla Corte Costituzionale anche prima che abbia prodotto i suoi effetti. E allora, in concreto, qual è il vero scopo delle cause che sono state azionate davanti al giudice a quibus? Il vero scopo è quello di arrivare davanti, di approdare alla Corte Costituzionale. Quindi hanno quelle cause un carattere meramente strumentale volte a chiedere alla Corte Costituzionale di verificare se le norme siano meno incostituzionali senza che ci sia un sostrato di situazione giuridica soggettiva ulteriore e diverso rispetto allo stesso scrutinio di costituzionalità. E questo determina un ulteriore motivo di inammissibilità della questione. A questo proposito devo richiamare la stessa sentenza richiamata poc'anzi, la 110 del 2015, che occupandosi anche in quelle ipotesi della soglia di sbarramento per l'elezione al Parlamento europeo, quindi di una vicenda che atteneva ad una legge elettorale, ha affermato molto chiaramente che al di fuori di una vicenda elettorale determinata, quindi specifica, in cui si addedotta la violazione di uno specifico diritto di voto, non può essere ritenuta ammissibile un'azione con la quale venga richiesto l'accertamento in astratto del contenuto di tale diritto. In altri termini, il giudice a quo, prima di sollevare la questione di costituzionalità, come insegna questa sentenza, ha l'onere di effettuare, diciamo, due test di pregiudizialità. Un primo test di pregiudizialità attiene alla verifica circa la diversità dell'oggetto del giudizio a quo rispetto a quello del giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Una seconda verifica è quella della sopravvivenza di un margine di autonomia nella decisione da parte del giudice a quo una volta ottenuta la sentenza da parte della Corte Costituzionale. Nel nostro caso, nessuna delle ordinanze di rimessione ha effettuato questo test, che viene richiesto, e quindi già questo di per sé conduce all'inammissibilità delle questioni. Ma quando anche il test fosse stato effettuato, non sarebbe stato superato, perché noi ci ritroviamo di fronte a una situazione nella quale i petita dei due giudizi coincidono. Ora, qui è stato detto stamattina che questa affermazione è errata per il fatto che il giudice a quo punta all'accertamento del diritto, quindi fa una valutazione sulla sussistenza della situazione giuridica soggettiva sottoposta al suo sindacato, laddove invece la Corte Costituzionale si occupa solo della legge e emana una sentenza eventualmente caducatoria della legge. Però nel caso in argomento, questi due profili coincidono perché, da questo punto di vista, sono cosetta a richiamare anche un'altra ordinanza di protesta Corte Costituzionale, la 175 del 2003, la questione di legittimità costituzionale non deve presentarsi come azione diretta contro la norma censurata, in quanto l'eventuale pronuncia di accoglimento, che è esattamente quella che si chiede in questa sede, verrebbe a concretare di per sé e ad esaurire la tutela richiesta nel giudizio principale al remittente. Dunque, l'azione di accertamento che è stata veicolata nei ricorsi introduttivi dei giudizi di merito, in realtà non è altro che un'azione strumentale a portare in questa sede una valutazione preventiva di legittimità costituzionale della norma e la sentenza che viene richiesta a questa Corte in realtà non farebbe altro che esaurire del tutto l'oggetto del giudizio a quo. Quindi sotto questo profilo, a mio avviso, si può apprezzare l'identità dei petita. E questo, l'argomentazione sulla diversità dei petita, è assolutamente necessaria nelle ordinanze dei giudici remittenti, come noi, ad esempio, possiamo notare nell'ordinanza del Consiglio di Stato del 2016, sempre sulla questione della soglia di sbarramento nell'elezione del Parlamento europeo, dove il Consiglio di Stato in quell'occasione si è diffusamente dilungato nello spiegare il perché i due petita erano diversi. Tant'è che ha detto, occorre che i ricorrenti aspirino a conseguire utilità di carattere mediato, che in quel caso poteva essere la proclamazione degli eletti o il conseguimento del seggio e così via, che deve essere ulteriore e diversa rispetto a quella di carattere immediato e diretto connessa all'invocata rimozione delle disposizioni sospette di incostituzionalità. Quindi, ancora una volta, sotto questo profilo, a nostro avviso, le ordinanze di rimessione rivelano profili di inammissibilità insuperabili. Poi si è aggiunto che ormai questa fatidica data del luglio 2016 è superata, al giorno d'oggi è superata, quindi oggi la norma sarebbe applicabile. E come tale questo supererebbe il problema che infisciava, secondo quanto ho appena detto, le ordinanze di rimessione. In realtà, però, noi stiamo discutendo in questo momento dell'interesse ad agire, cioè l'applicazione, gli effetti prodotti dalla norma che si sospetta incostituzionale, produce gli effetti dal momento, dal luglio del 2016. La valutazione circa la produzione o meno degli effetti ha valore sotto il profilo dell'interesse ad agire. L'interesse ad agire è una condizione dell'azione, come tale deve perdurare per tutto il giudizio quo e deve essere presente anche nel momento storico in cui il giudizio è stato incardinato. Ora, tutti i giudizi sono stati incardinati in data precedente. Dunque, per tutti i giudizi si pone il problema della inammissibilità perché non sussisteva una condizione dell'azione. Questo lo spiega molto bene un'ordinanza, sempre di Codesta Corte, del 2000, che è stata richiamata anche nelle memorie, la 241, nella quale si dice che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone che il giudice a cuo, giudice che la solleva, debba in quel momento processuale fare applicazione della norma denunciata. La norma denunciata, nel nostro caso, non aveva effetti, nel momento in cui sono stati incardinati i giudizi, conseguentemente l'azione è inammissibile. Infine, un ultimo profilo, e così chiudo, riguarda un aspetto di cui si è parlato oggi, è quello dell'autorimessione della questione di costituzionalità con riferimento ai profili della formazione della legge e dell'iter parlamentare. Ora, una breve notazione sull'autorimessione, ovviamente lo ricordo solo a me stesso, l'autorimessione è uno strumento attraverso cui, in qualche maniera, la Corte Costituzionale, ritenendo che vi sia una questione pregiudiziale da risolvere prima di accedere all'oggetto del giudizio, quindi prima di esprimersi sul sindacato di costituzionalità di una norma, solleva dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale da risolvere in via pregiudiziale. Quindi è una questione che deve essere pregiudiziale e strumentale al fine di pronunciarsi sull'oggetto del giudizio. Tant'è che l'autorimessione viene utilizzata da ultimo, ricordo l'ordinanza 114 del 2014, laddove la Corte non può valutare la legittimità costituzionale di una norma se non risolve a monte un problema in ordine, ad esempio, allo strumento con il quale la questione è stata portata alla sua attenzione. In quel caso si trattava di valutare la costituzionalità di una norma che attribuiva al Commissario di Stato la possibilità di impugnare una norma dinanzi alla Corte. Allora, la Corte in qualche modo è al tempo stesso il giudice a cuo che solleva la questione e la stessa Corte Costituzionale che decide della legittimità costituzionale. E quindi in qualche modo fa una valutazione sotto il profilo della rilevanza della questione e della non manifesta infondatezza. Sotto il profilo della rilevanza, a mio avviso, i profili che sono stati sollevati non sono strumentali alla soluzione della questione, ma aggiungono, semmai, un'ulteriore censura di incostituzionalità alla legge. Quindi si amplia il tema Decidendum senza che ci sia un nesso di strumentalità necessaria tra la nuova questione sollevata e tutto ciò che invece è già approdato al giudizio di Cotesta Corte. Dal punto di vista, invece, della non manifesta infondatezza, dobbiamo dire che tutte quelle censure riguardano l'applicazione di regolamenti parlamentari, e quindi di norme, di disposizioni che sarebbero sottratte al sindacato della Corte Costituzionale dal punto di vista del giudizio incidentale di legittimità. Semmai potrebbero essere oggetto di conflitto di attribuzioni, cosa che in questo caso non avviene. Pertanto, per queste ragioni, io insisto sulle eccezioni di inammissibilità che sono state sollevate agli atti. Grazie. La parola all'Avvocato Generale dello Stato, Massella Duciteri. Grazie, signor Presidente. Tocca a me adesso trattare sinteticamente nel merito quelle che sono state le obiezioni che sono state sollevate. Io, prima di affrontare per singoli punti alcune mie deduzioni, ritengo di di non avere difficoltà ad essere sintetico, perché la relazione che è stata fatta dal giudice relatore mi ha fatto capire benissimo che tutte le questioni sono ben presenti alla Corte, perché nel corso della relazione sono state esposte non solo quelle che erano le posizioni dei miei avversari, dei miei illustri avversari, ma anche quelle che erano le singole deduzioni che noi avevamo svolte. Quindi, quella sintesi mi consente di andare ad affrontare alcuni argomenti che mi sembra siano emersi nel corso delle arringhe che i colleghi hanno tenuti nel corso della mattinata e che forse richiedono qualche piccola precisazione. Innanzitutto, come ci aveva indicato il relatore, c'è la questione del premio di maggioranza. È stato fortemente criticato il premio di maggioranza e mi sembra che innanzitutto, specialmente in uno degli interventi finali, si sia affermato che in realtà l'unico sistema veramente valido è un proporzionale puro. A me sembra che questa legittima, validissima considerazione costituisca una delle ipotesi che la nostra Costituzione ammette, ma che non sia l'unica quella che vincola il legislatore in maniera, diciamo così, totale. Come ci ricordava la Cassazione, in questo tipo di giudizi, noi dobbiamo vedere se si deve ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati. Che il proporzionale non sia contenuto costituzionalmente obbligato mi sembra emerga con totale chiarezza dalla stessa sentenza 1 del 2014 che pure i miei colleghi hanno costantemente evocato nel giudizio. Scusate se leggo solo una frase. Voi, al punto 3.1, avete ricordato a tutti noi che l'Assemblea Costituente, pur manifestando il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei Deputati non intese irrigidire questa materia sul piano normativo costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali la configurazione dei quali resta affidata la legge ordinaria. E quindi, voi stessi avete ricordato che non c'è un modello di sistema imposto dalla Carta Costituzionale in quanto quest'ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Quali i limiti che però avete enunciato con chiarezza? che la legge elettorale deve ricordare mi sembra che ce l'ha detto lo stesso e richiamato lo stesso relatore stamattina i principi di ragionevolezza e di proporzionalità questo alla luce di questi principi cardine deve essere esaminato un sistema elettorale per valutarne la sua corrispondenza a quelle che sono le previsioni della nostra carta fondamentale e allora per quello che riguarda il premio di maggioranza proprio la stessa sentenza uno di questa eccellentissima corte aveva detto che esso era illegittimo perché non era connesso ad una ragionevole soglia di voti minima mi sembra che ci sia stato quasi un dialogo corte parlamento la corte ha dato dei criteri e il parlamento ha ritenuto di rispondere ad ognuna delle censure che era stata colta e sottolineata da questa corte e infatti al primo turno c'è una soglia il 40% che mi sembra arduo definire irragionevole a meno che non si ritenga ragionevole il 49,9% perché è quel voto in più che a quel punto rende ragionevole dare il premio veniva chiesto quindi soltanto una ragionevole soglia di voti minimi e mi sembra che a questo sia stata fornita adeguata ragionevole e proporzionale risposta c'è la questione del ballottaggio e qui il discorso si innesta un po' anche con quelle che sono stati gli ulteriori profili che la corte di Genova il tribunale di Genova ha ritenuto di richiamare alla nostra attenzione innanzitutto mi permetto di ricordare che ai sensi della legge che viene qui censurata il ballottaggio è subordinato ad una doppia valutazione innanzitutto bisogna verificare se la lista ha raggiunto o meno il 40% ma la seconda verifica che è dato dal punto 6 della norma censurata prevede che si siano raggiunti i 340 seggi laddove siano stati raggiunti i 340 seggi non si dà luogo a ballottaggio e quello che anche mi preme sottolineare è che ai sensi della quello che è l'articolo 1 comma 1 lettera F della legge qui censurata 340 è il limite massimo a garanzia delle minoranze è sempre garantito un numero minimo di seggi i 278 perché dice la lettera F che sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene almeno il 40% dei voti validi quindi abbiamo il doppio limite e questo mi fa dire che anche il discorso della ragionevolezza sia rispettato rispetto al turno di ballottaggio ballottaggio poi che in sé è stato criticato ma abbiamo già presente questa forma elettiva nel nostro ordinamento e non ci possiamo dimenticare che tanti paesi del mondo occidentale a noi vicini lo prevedono ma nessuno ha mai pensato che quel tipo di elezioni fossero del tutto contrarie al principio di democraticità anche perché spesso vengono da quei paesi che proprio il principio democratico hanno inverato ben prima di noi quindi mi sembra che ci sia il discorso poi della proporzionalità viene a incidere con il discorso della ragionevolezza del 55% richiesto in termini di ballottaggio anche quello mi sembra che sia del tutto limitato se si tiene conto che da una parte le due liste hanno già raggiunto la maggioranza nel primo turno tra quelle che hanno partecipato si possono fare molte ipotesi però la corte ci richiama all'attuale contesto storico e nel momento in cui è stata adottata la legge e in quel momento non era irragionevole per il parlamento prevedere che non si sarebbe avuta quella polverizzazione di liste che avrebbe portato ad alcune ipotesi che vengono illustrate nelle memorie dei miei avversari e che sono state prospettate nel momento in cui il ballottaggio è ritenuto ammissibile e io non ho rinvenuto alcuna norma della costituzione che lo vieti anche perché siamo in un giudizio di legittimità non di merito di quale sarebbe la legge preferibile qui stiamo valutando una legge in concreto e se è legittima la luce dei canoni dell'attuale costituzione vigente nessuna norma della costituzione impedisce il ricorso al sistema del ballottaggio che esistendo come ho già detto nell'ordinamento è del tutto legittimo e quindi è manifestazione di uno stato totalmente democratico di uno stato che come ha detto un grosso professore che abbiamo citato nelle nostre memorie deve anche saper scegliere perché il ballottaggio come ha insegnato il professor Sartori vuol dire anche capacità di scegliere e questo è un requisito che è quello poi della governabilità che è del tutto anch'esso legittimo ed è un interesse che la sentenza 1 2014 ha riconosciuto come legittimo meritevole di essere perseguito sì abbiamo avuto tante forme elettorali diciamo che non tutte hanno entusiasmato l'elettorato non tutte hanno entusiasmato il Parlamento che ha ritenuto di modificarle perché in quel determinato momento storico riteneva preferibile altri sistemi elettorali purché legittimi ragionevoli e proporzionali nei sacrifici che venivano fatti e questo mi sembra che sia stato fatto anche con il 55% perché a colui che raggiunge il 50 più uno dei voti viene dato solo un 5% in più e mi sembra cifra minima e ragionevole da ultimo e con questo chiudo sul discorso dei voti il discorso dell'auspicio del sistema omogeneo tra Camera e Senato è un auspicio assolutamente legittimo che in qualsiasi momento il Parlamento potrà perseguire mi sembra però come abbiamo illustrato nelle nostre difese che sia da come la stessa Costituzione prevede la composizione dei due organi che nascano delle ineluttabili differenze a partire da quello che abbiamo esposto della base regionale ma io vorrei richiamare un altro aspetto che forse ci è sfuggito nelle memorie e che può apparire nuovo e che vale anche con riferimento al voto in uscita a me sembra che non si possa dimenticare che per quello che riguarda le elezioni del Senato l'articolo 57 della Costituzione prevede espressamente che nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a 7 questo vuol dire che in alcune regioni che hanno una minor popolazione al loro interno ma perché di minori dimensioni comunque il numero di 7 debba essere garantito questo vuol dire che evidentemente il voto in entrata è 1 ma il voto in uscita può essere diversamente calibrato se no per il proporzionale puro che sarebbe l'unico sistema scritto nella nostra Costituzione questa norma non avrebbe molto senso non si potrebbe spiegare sarebbe al di fuori da quello che invece è il disegno che i costituenti hanno voluto dare garantire un minimo di rappresentanza anche alle regioni più piccole che se no ne avrebbero avuta di dimensioni assolutamente inadeguate dal loro punto di vista e quindi questo mi fa dire che andare a rivedere certo all'omogeneità si può e si deve arrivare il più possibile ma anche questo rienza in una discrezionalità del legislatore che deve tener conto di alcuni vincoli costituzionali che comunque sono previsti nella nostra carta fondamentale quindi per quello che riguarda le obiezioni del tribunale genovese vorrei limitarmi aggiungere a quello che ho già detto che la seconda obiezione era quella se due liste superano entrambi il 40% beh non è irragionevole che chi vinca abbia un piccolo premio di maggioranza non è che viene stravolto bene o male proprio per quel principio di governabilità si è ritenuto di riconoscere a queste due liste che entrambe hanno il 40% ad una la possibilità di avere una più solida base parlamentare e questo è stato fatto riconoscendo un limite che ripeto è sempre quello dei 340 seggi la questione dei capillista anche qui io dico la verità non ho trovato qual è il canone della costituzione che impedisce la possibilità ad un candidato di essere presentato in più collegi tant'è che è una norma che abbiamo dal 1945 non è un'invenzione della recente legge è dal 45 che esiste questa possibilità anche lì sono stati indicati dei limiti nella stessa sentenza 1 del 2014 è stato detto guardate va bene capolista bloccati però in un sistema che complessivamente tenga in cui si può riconoscere che alcuni diciamo così possono avere una garanzia ma gli altri la maggioranza sono eletti dal corpo elettorale tant'è mi sembra che la scelta fatta sia totalmente in linea e rispettosa di quello che è stato detto dalla Corte con la sentenza 1 del 2014 infatti i candidati vengono scelti in collegi elettorali di ridotte dimensioni non abbiamo collegi in mezzo sono numerosi vi è un mix tra candidature bloccate e preferenze e poi la possibilità delle candidature multiple è limitata quindi io ritengo che anche per quello che riguarda il discorso dei capilista si siano rispettati quei canoni di ragionevolezza e proporzionalità che erano stati sottolineati richiamati come ineludibili da questa eccellentissima Corte nel 2014 e poi torno sul punto a me non sembra che quel principio sia vietato dalla Costituzione è in verità mi pare esatto il contrario vale a dire che è ammesso liberamente la possibilità di essere presentati entro certi limiti in più collegi e quando questo obiettivo non si vuole raggiungere deve essere espressamente detto tant'è che laddove il legislatore non l'ha voluto l'ha detto mi riferisco all'articolo 20 bis della legge per l'elezione del Senato dove è detto che per il Trentino Alto Adige è il divieto espresso del candidato di essere in più collegi quindi laddove si è voluto limitare si è dovuto dire per legge se no esisteva la libertà di potersi presentare in più collegi quindi mi pare che l'ordinamento smentisca anche questo da ultimo la questione del Trentino Alto Adige questa veramente è parsa molto complicata anche a me e io mi scuso con tutti se forse non ho capito non ho capito i termini ma non ho capito la rilevanza alla luce di quel che dice la legge che viene censurata qui c'è stato probabilmente un errore è stata dedotta l'illegittimità dell'83 comma 1 comma 3 ma la materia è disciplinata dal comma 6 e il comma 6 con riferimento a quello che mi è parso di cogliere ma posso aver capito male che ci potrebbero essere riflessi sulle liste nazionali no il comma 6 lo dice con chiarezza che i voti espressi nelle circosizioni del Trentino Alto Adige valgono sia a determinare il 40% valgono sì per determinare il 3% ma ultima linea essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale sono sterilizzati al Trentino l'unico effetto che essi hanno a livello nazionale che quindi assume rilevanza per l'elettore genovese perché l'elettore ligure ha interesse a sapere se il suo voto può avere può essere in parte condizionato dal resto della numerosa popolazione delle province di Trento e Bolzano di cui sono note i milioni di abitanti e di elettori no non concorrono la legge lo dice essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale quindi è un ulteriore profilo in base al quale c'è quella mancanza di interesse che rende inammissibile la questione sollevata dal tribunale di Genova io mi scuso delle numerose lacune della frammentarietà della mia esposizione ma proprio perché la corte e il relatore che ad essa riferirà hanno esposto così magistralmente quelle che sono le altre posizioni illustrate dall'avvocatura dello Stato nelle sue ampie memorie 27 di inammissibilità ma 65 di merito io chiedo che venga confermata la legittimità costituzionale della legge e comunque che venga dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le questioni sollevate grazie l'udienza è conclusa grazie